Il Museo Civico Archeologico di Veroli si presenta, o meglio si ripresenta al pubblico in una veste completamente rinnovata e lo fa seguendo una direttrice ben precisa, quella dei luoghi del tempo. Partendo da qui, da questo concetto nasce il nuovo allestimento con tante novità e prezzi pregiati come il sarcofago di epoca romana ritrovato in la località Santa Francesca. C'è stata tutta una riorganizzazione degli spazi in base a questa suddivisione tematica e tutto uno studio, un riallestimento di tutti quelli che sono i vari reperti. È stato fatto tutto uno studio a un monte supervisionato dalla sovrintendenza. È stata data una forte impronta didattica al museo e un'impronta di fruibilità e accessibilità soprattutto per le categorie più deboli. Un museo lo potrei definire del toccare. Naturalmente questo allestimento è ancora in corso d'opera. Ci siamo posti l'obiettivo di terminarlo nei prossimi mesi, molto probabilmente i primi di luglio. Per il Comune di Veroli a questo un punto di partenza, l'obiettivo è delineato. Siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo, un obiettivo di sicuro comunque è anche un punto di partenza per quello che è l'aspetto didattico museale che noi vogliamo dare e abbiamo dato come impronta al nostro Museo Civico Archeologico del Tempo. Un lavoro che è iniziato già con la dottoressa Della Porta, il nostro direttore scientifico e con la dottoressa Brunilde Mazzoleni e con l'intera sovrintendenza. È di sicuro un obiettivo che ci porterà a partecipare al bando per l'inserimento nell'organizzazione museale regionale che ci siamo prefissati di raggiungere entro quest'anno. Ci auguriamo di poter dare anche un'impronta innovativa e tecnologica con i prossimi bandi che usciranno e ai quali intendiamo partecipare nei prossimi mesi e quindi di renderlo ancora più fruibile ed innovativo. E per la città di Veroli allora questa è davvero una grande occasione. Una bella giornata per la nostra città di Veroli e inauguriamo questo nuovo spazio museale frutto dell'impegno e del lavoro di tante persone. Oggi con soddisfazione e con orgoglio mostriamo alla città di Veroli e alle tante persone che verranno a visitare la nostra città questa nuova realtà. E l'investimento nella cultura, l'investimento nel nostro patrimonio artistico, archeologico e culturale è stata una priorità della nostra amministrazione e credo che i risultati in termini di presenza e di apprezzamenti per la nostra città ci conforta su quella che è una scelta sicuramente illuminata per dare uno sviluppo maggiore alla nostra città di Veroli.